Ciao ragazze e ciao ragazzi, ma direi più ciao ragazze questa sera perché ho un annuncio da farvi come ogni mese, giornata Cilcaniè, per il mese di settembre la giornata sarà domenica 21 quindi a tutte le ragazze di Genova e dintorni, anche volendo del Piemonte se vi va di venire giù il 21 di settembre al centro commerciale L'Aquilone in Viaro Mairone qua a Genova dalle ore 10 alle ore 19 farò come ogni mese la giornata di trucco gratuito quindi se vi va venite, vi trucco, ovviamente è tutto suo appuntamento quindi avrete all'incirca 45 minuti a disposizione per farvi truccare, farvi dare dei consigli sul make up, fare due chiacchiere con me e niente, altra cosa che vi ricordo, anzi che probabilmente non avevo ancora detto nei vari video delle varie giornate organizzate per tutte le ragazze che parteciperanno alla giornata di trucco gratuito ci sarà il 40% di sconto su tutti i trattamenti di estetica e il 30% di sconto in caso di acquisto del make up quindi qualunque prodotto di make up scegliate avrete il 30% di sconto proprio perché avete partecipato alla giornata di trucco gratuito a questo punto vi mando un bacione di gigantesco, vi lascio come al solito il numero di telefono per prenotare che è 010-7262-143 chiamate il centro estetico Pink & White e prendete appuntamento per domenica 21 settembre un bacione, ciao!